Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare questa pioggia di stelle primordiali mi raccomando dirigetevi qui in questo posto perché dobbiamo entrare nella guia degli eredici per farlo dobbiamo attraversare un ponte invisibile, ho fatto anche un tutorial su come attraversare questo ponte ma non vi preoccupate, ripeteremo di nuovo questa fase nel fatto di attraversare questo ponte mi raccomando io mi equipaggio sempre di palle, coltelli, tanto neanche li uso quindi li butto a terra e mi faccio strada così, mi faccio strada ok? adesso vi faccio vedere come si fa, vi faccio vedere senza che cadete giù e vi spiaccicate anche se questo incantesimo è molto utilissimo ok? è molto utilissimo, cioè è molto utilissimo se vi circondano voi usate questo incantesimo lo scatenate su di loro e voilà, li avete distrutti quindi fate molta attenzione qua, io adesso sono sceso dal cavalluccio qua, dalla cavretta e adesso mi faccio strada con i coltelli quello è caduto giù perché non è stato furbo come me velocizzate il video se no diventa noioso eh? ok? anche perché ci sono queste orme, questa nebbia che ci aiuta a percorrere bene il percorso quindi proseguiamo da questa parte, mi raccomando fate attenzione a questi sgorbi che volano poi non so neanche come mi hanno fatto a prendere dall'ascensore e niente ragazzi, salite qua, prendete l'ascensore, prendete l'incantesimo questo è veramente un grande incantesimo ed intelligenza mi sembra che serve di livello 50 oddio, chi è questo? intelligenza livello 50 eh già, livello 50 ma non vi preoccupate, se avete bisogno un po' di intelligenza livellate al palazzo dei Mogwin, come si chiama a farmare rune oppure a prendere delle maschere, dei maghetti così li equipaggiamo e ci aumenterà così di livello adesso vi porto un attimo in quel posto per provarlo un attimo questo incantesimo eccoci arrivati ho evocato così l'incantesimo guardate là quanti danni fa vabbè poi dipende anche dal bastone che avete ok, il bastone magico quindi ragazzi io spero tanto che questo video vi è stato utilissimo lasciate like se il video vi è stato utilissimo e iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale